Dopo 9 anni di assenza di contratto, finalmente abbiamo firmato un importantissimo contratto, quello della conoscenza, che riguarda tutti i lavoratori e le lavoratrici della scuola, dell'università, della ricerca e dell'ATAM. Un contratto davvero importante sia in termini economici, viene garantito ovviamente l'accordo che abbiamo fatto a livello confederale sul rinnovo dei contratti in tutti i settori della pubblica amministrazione, ma che riporta soprattutto alla contrattazione tante materie che la legge aveva indebitamente tolto alla contrattazione. Molto importante la centralità del lavoratore e della lavoratrice, la sua dignità e soprattutto la valorizzazione di quello che è importante per tutta la società, avere percorsi formativi assolutamente degni di questo nome, con possibilità di dare centralità ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze in tutto il loro percorso scolastico e una grande valorizzazione del ruolo della ricerca per il bene comune che si chiama Paese Italia.